Io non ho l'ambizione di venire a dire quello che devono fare i cittadini terramani. I cittadini terramani sanno che vengono fuori da degli anni complessi, dove molti sono delusi di questa amministrazione comunale. Il centrodestra a Teramo ha una classe politica ben riconoscibile, anche plasticamente, e quindi sarà quella classe politica di Teramo che dovrà individuare l'uomo migliore per guidare la coalizione del centrodestra. Poi se deve venire qualcuno di Giulianova a consigliare quello che devono fare a Teramo, penso che sia il fallimento della politica locale. Io a Giulianova non lo vorrei e quindi mi auspico che la maturità degli attori seduti attorno al tavolo portano una sintesi nel minor tempo possibile. Il modello Teramo è un triste ricordo? Assolutamente sì, nel senso che io credo che la politica è fatta di tempi. Il tempo del modello Teramo è un tempo che probabilmente, visto da fuori, si è affievolito e svanito, adesso c'è bisogno di forze nuove, di uomini nuovi, di gente che si mette a servizio della città, di molti professionisti che io ho incontrato che vorrebbero mettersi a servizio della comunità e bisogna lasciare campo. Se non lasciamo campo è evidente che torniamo dietro a diverse vecchie logiche che non portano a nessuna parte. Ma guardi, le faccio l'esempio di Giulianova dove i partiti si sono riuniti un mese fa insieme alle liste civiche e hanno già deciso quella che sarà la classe dirigente che governerà la città dal 2024 al 2029. Però ripeto, sono gli uomini e le donne, gli attori del territorio che devono prendere delle decisioni. Non siamo di certo noi che veniamo da 25 km di distanza a dire quello che dovranno fare di Cittadini Terramani. Lei cosa farà Giulianova, se ricandida? Quello che mi hanno chiesto i miei consiglieri, la mia maggioranza, i quattro partiti della coalizione centrodestra è impegnarsi di nuovo per guidare questa coalizione. Oltretutto la più grande coalizione si sia mai ricordata Giulianova. Lei cosa ha risposto? Io ho risposto in maniera serena che se me lo chiedono i miei compagni di viaggio che sono quelli che hanno attraversato il deserto dei Tartari con me sfidando il centrodestra e il centrosinistra per poi riunire tutti insieme, naturalmente io scenderò in campo per la mia città. Per me la politica non è un punto d'arrivo ma per me la politica è una parentesi della mia vita. Quindi posso tranquillamente continuare a fare il sindaco a differenza di qualcuno che scalpita per fare altro.